vediamo quindi resta la portata cosa è giro? andavi a ca, no a ca ah a ca? eh ma che sto contando sull'epo? del commensetto? ah ma al contrario del commensetto ah ecco ah ecco qua mi profilo, mi profilo, mi profilo, mi profilo allora allora abbiamo passato adesso abbiamo passato quando vedi una macchina gialla arriva dopo a calonzo e scrivete in serio che cosa è gialla? ma quando vedi una macchina gialla arriva dopo a calonzo e scrivete in serio che le macchina è gialla oddio guarda non la sai l'ultima stavo con la mia amica a schia che stavo guidando lei mi fa vedere guarda che ho fatto guarda che cosa è vera ma stai sotto la funda ti ha piangato la macchina tu stai ciò la gioia che ti c'hai detto ma vada che lo teni la patta la macchina è gialla la porta da lì cosa era quella? cosa era quella? torna il suo oh chiudica 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 il suo si vedi torna il suo stanno là andrà dove indica guardiamo il suo ma tu lo fai il cupo come fa? come fa? dammi il basso, metti il basso così, da unici ma come ti sceglie? ma c'è una crap! ma come ti sceglie? c'ha poco un E poi, se vuole, la gente non lo vai a testare, finalmente se lo lo facciamo fatto perché lo guardo ogni faccia! E poi? E poi? Ma non ci frega, ma non ci frega! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ma non ci fai a testo, ma non ne vedete voi! Di cosa si fa, è una testata! Siamo quasi al passaggio al man mano! Siamo saliti! Ma poi, stiamo completamente! Quello è il cazzo di Sommaso Resuliana! Un'altra cosa si chiude! Eeeeh! Che tagliai? Il secondo te? Una prima! Aaaaaaah! La seconda? La terza! No! Una prima che ti imbottisola? No, ma è senza! Una prima che ti imbottisola! no la macchina e la macchina e la macchina e la macchina oi amore ma c'è un po' la pochina e la macchina una macchina questa noi 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 e quella è che non ho detto prima e poi ci mangiate ci mangiate di mamma fa tutto la moglie no 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 è mio allora antitolazione scusate che ragazzi sei svegliato stamattina io alle sette culo e siete venuti a me la vendi fuori che fa male erano alle nove e dieci alle otto se ti faccio le sette perciò la giornata io metto eh e tu a che ora ti sei svegliato che belli aspetta mi hai buttomato la casa mi hai buttomato la casa mi hai buttomato la casa a che ora erano alle sette e vento vabbè tu sei stato preschiso perchè l'hai detto tu hai fatto tardi sei e mezzo effettivamente voglio non ci trovo ma se alle otto ho chiamato voglio ma vi state chiamando i pacchi perchè alle otto ho chiamato io che me l'ho alzata e mi avete detto stessa azione cioè se me l'ho alzata alla sette quindi ma io ho chiamato i pacchi in gru beh a voi mi sono tutti cazzo saluto 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 allora qual'è la nostra tappa? superiore a incontrare a? inferiore questo è bello però che è un dardaniello da luigi e se da luigi non mi dà un vaso ma che sento l'altro cosa la faccio prete aspetta cosa sei cosa sei? se ti fa rubire un bucino se ti fa di farla a culo o no? ci faccio ci faccio aspetta facciamola parola amico quanta gente andrà a salerno eeeh 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 eeeh